Ciao, io sono Giampiero. Ciao, Veronica. Siamo degli studenti della terza edizione del Master Bio Circe. E oggi siamo qui a Novamut come prima esperienza sul campo dopo le lezioni teoriche. Io ho un po' un background ingegneristico, mi piace molto gli aspetti di sostenibilità, ho studiato le bio-raffinerie e penso che in questa azienda abbiamo veramente una bella politica nel campo ambientale e soprattutto anche come sinergia col mondo dell'agricoltura che è una cosa molto importante in Italia. Io invece sono una studentessa di biotecnologie appena laureata e ho seguito la necessità di uscire un attimo fuori dalle mura del laboratorio e vedere la realtà, quella vera. E questa è una delle realtà migliori a che mi fanno ancora credere che l'Italia possa fare e quindi per me ne ho studentessa. L'esperienza di oggi è stata una grande speranza per il futuro. Abbiamo davvero visto che si può, si può fare bene e si fa. Siamo molto contenti di Novamut e ci piace molto questo modello di bio-economia circolare in cui sì, è importante la parte economica ma viene data importanza a tutta la filiera, all'aspetto ambientale, all'aspetto sociale. Penso che questo possa essere il modello vincente per uno sviluppo sostenibile nei prossimi anni, soprattutto in paesi come l'Italia. essere ottimi dall'inizio alla fine. Tutti i passaggi sono ben pensati e che li erano realizzati sul territorio, quindi ci si crede e noi siamo contenti di credere insieme a loro. Una cosa che mi è piaciuta veramente è l'ambiente giovane e dinamico che si respira qua dentro. Tanti ricercatori, tanti ragazzi giovani con tanta voglia di fare, quindi questa è la ricerca giusta. Grazie Novamut. Grazie.